Anche quest'anno il Teatro Rex di Giarre ospita la giornata di studio gratuita per agenti di polizia municipale, appuntamento che ormai è diventato una tradizione che vede arrivare a Giarre agenti di svariate province siciliane. Tema di quest'anno la polizia edilizia e la gestione dei rifiuti edili. Questo anno facciamo giornata di studio, convegno gratuito e si parliamo di reati edilizi, di rifiuti che sappiamo benissimo nella nostra terra sono in abbondanza. E' un tema trattato sia dalla parte della Procura dell'area pubblica con il dottor Angelo Bugaletta che è sostituto procuratore e si occupa da tanti anni di questi tipi di reato e dal collega di Avellino a Giannetta, il dottore Giannetta. I partecipanti sono sui circa 250 e arrivano da ogni parte della Sicilia, sono tutte le province rappresentate e anche dalla Calabria e c'è un partecipante del Molise. Quest'anno c'è una novità che hanno aderito a questo convegno anche i ragazzi dell'Istituto Tecnico per Geometri e tutti quelli del quinto anno, quel progetto scuola-lavoro. Sono tutte le novità soprattutto con la scia seconda che adesso è uscita adesso, che supera la DIA, sono degli interventi che si fanno direttamente, abbiamo lo smaltimento dell'Amiando, sono tante problematiche che nella nostra terra purtroppo le viviamo tutti i giorni.